siamo seguiti da quest'uccello simpaticissimo di albero in albero ci sta accompagnando ciao mi sposto ecco che viene con me mi sa che è una taccola perché le taccole sono molto domestiche ciao mi ha lisciato la spalla quasi si è riappoggiata guarda che roba dai passeggiamo cioè mi sembra impara davanti vuole essere presa vieni dai su questa volta non avere paura guarda è tentata toglieti che c'è la macchina io non so se credere nei miracoli ma la taccola che avevo conosciuto dieci chilometri lontano da qui è ora sotto casa mia e io infatti gli ho potuto dare una crocchetta di cane che si sta mangiando si è riavvicinata a me io non lo so cioè i brividi ma che cosa vuoi da me mi ispezioni ma chi sei tu ma chi sei tu incredibile guarda incredibile aia mi becchi ma mi fai male no no piano piano vieni sulla mia mano vieni sulla mia mano te la sei mangiata la crocchetta eh adesso voglio vedere se mi segui invece di stare a stuzzicarmi e vieni con me che ti voglio dare un po' di frutta vediamo se riesce a venire con me sul balcone andiamo brava brava ah allora aspettami lì io vado sul balcone eh Jack vieni qui si è messa sul filo di fronte al mio balcone quindi ha capito che io sono entrata in casa Jack Jack vieni qui ora si è posata sulla casa di fronte proprio Jack Jack prima stavamo laggiù dietro quest'angolo si è appoggiata su quel ramo su quegli alberi poi è andata su questo pino questo è il balcone dove chiedo di che lei venga Jack ora sta dietro il muretto lì e non so che fa mi ha rubato il croccantino e se l'è portato lì però è volata qua e adesso ci tornerà furfante vieni pure a bere dai vieni qua vieni qua che vieni qua ciao vieni qua perché vieni qua vieni qua vieni qua mi è salita sul telefono ma io ti amo sta sulla mia spalla ma io ti amo no non mi beccare però non mi fare male sta sulla mia spalla ma io ti amo volevo che tu bevessi perché avrai sete non ci posso credere aia non mi fare lo scalpo è venuta qui non so come come mi ha trovata non può essere una coincidenza con tutti i posti che ci sono qui amore Jack Jack vieni qua Jack tu hai caldo guarda un po' la frutta ah vedi è così non serve fare così la druncola anzi la druncolo te la do io senza che lo rubi sciocco sciocco guarda fai piano tieni qua la frutta il kiwi vieni Jack ti piace rubarlo dalla mano a te brutto bucione io non ho paura è tornato guarda se lo vuole far portare a domicilio a domicilio non ti piace non ti convince il kiwi c'ha le vitamine meraviglioso non sei proprio non ti piace troppo troppo sei deluso preferivi la carne eccolo di nuovo sul telefono e di nuovo sulla testa basta no dai così è troppo così è troppo ma mi sa che ti sei un po' innamorato di me sei proprio maschio è wild you know wild it is wild unbelievable but very intelligent yeah ormai sei mio lo sai sì ormai sei mio siamo nostri ormai siamo nostri eccolo allora adesso voglio che vieni in casa con me ci vieni in casa con me dai eh facciamolo non avere paura andiamo in casa aglia non mi beccare la tetta non avere paura entriamo in casa così diventi proprio domestica vabbè piano piano ci vediamo alla prossima puntata anzi scusa piano piano ci vediamo alla prossima puntata sì guarda guarda voleva entrare vieni Jack tu sei incredibile vieni Jack 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 qua Jack qua Jack Jack bravo ma sei bravo e coraggioso molto bravo molto bravo è un bel posto questo ti stai guardando intorno ma sì ma sei bravissimo ma sei bravissimo guarda un po' la cucina così tu impari ad andare alla finestra andiamo alla finestra così mi vieni a trovare mentre faccio il caffè tu puoi stare qua in finestra bene guarda ti faccio stare bravo è andato è andato bravo che mi vieni a trovare questo sì ecco cosa sta facendo è andato vuoi sai in finestra è andato da sono senza parole ha fatto un rito ha fatto un rito tutto suo, vero? ormai è la mia ossessione dove sei? dove sei andata? ecco mi hai rubato il fazzoletto con cui stavo pulendo il balcone riportamelo Giacomo? Giac, qua Giac Giac, qua vieni qua Giac non te lo mangiare il fazzoletto di carta Giac qua Giac Giac salta eccola rientriamo in casa? ormai sei abituato andiamo in casa che ci è piaciuto ci è piaciuto entrare in casa ok a posto vabbè io così con te non combinerò più niente devo stendere i panni eh vado a prendere la la lavatrice Giac Giac vedi se hai sete un po' d'acqua non c'hai sete sicuro? Giac Giac più interessato alle mie unghie bravo sa caldo bravo la lavatrice non c'è la lavatrice non c'è la lavatrice devo inventare un telefono con trespolo abbinato non mi devi fare male devi fare piano io dovrei ancora stendere la lavatrice non so grazie di avermi permesso di stendere i panni non mi ci caccare sopra però cammina con me cammina con me non mi fanno antipatico che sei dispettoso ma guarda quanto sei dispettoso andiamo su sali antipatico guarda se io ti occhiappo io ti occhiappo non fare l'antipatico qui comando io forse o sai tu che mi hai già sottomessa contento quando si gonfiano sono contenti l'anello ti piace il mio anello non lo so interessante ahia la mia vena no però guarda che molti meno fatti accarezzare fatti accarezzare un po' vai i grattini i grattini un po' di grattini eh vabbè ne sei furfante eh ciao 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 vabbè io dovrei pranzare mi fai mangiare qualcosa anche a me vedrai che viene vedrai che viene senza che la chiamo cioè io in due ore dire che ti ho addestrata mi sembra presuntuoso perché non ho fatto proprio nulla ma in due ore ecco qua il risultato della nostra amicizia che cosa ti posso insegnare a fare andare nei capelli delle persone antipatiche che caricarli puntarli e caricarli siamo qui siamo qui vabbè ora smetto vediamo che succederà fra qualche giorno perché tu non te ne andrai vero Jack non te ne andrai vero sei con me ti piace questo posto vero con questa inquadratura finale ci vediamo alla prossima puntata di questo reportage su una taccola molto speciale un'attrice nata Jack dai che devo fare pranzetto vieni con me Jack finalmente un po' di pace non mi ha dato tempo di mangiare eccolo Jack vieni qua ormai siamo fidanzati vieni qua anche io ho diritto di mangiare guarda in telecamera avviciniamo un po' eh vieni Jack Jack vieni buona la mia siamo al primo giorno sono circa tre ore non mi beccare ti prego circa tre ore che stiamo insieme io e Jack bravo la mela fa bene Nico ora te la do pure a te c'è il cane sotto un cane di 50 kg infatti ho spiegato a Jack che noi ci vedremo solo al piano di sopra non sotto oh non è detto magari facciamo diventare amici pure Jack e Nico gli è piaciuto il dattero adesso basta mangiare se no diventi obeso facciamo un po' di coccoline piano vieni che ti piacciono con calma bravo ok io sparecchio vento dentro vedi tu cosa vuoi fare si sta sgranchiendo dopo un bel pranzo un po' di grattini che fai? vuoi venire dentro pure nella camera da letto la vuoi conoscere la camera da letto? è andata dall'altra parte è andata dall'altra parte che fai? è andata dall'altra parte che fai? è andata dall'altra parte che fai? è andata dall'altra parte